Ciao amici, Massimiliano HP John Blood per Tecso Scimmiati, siamo qua a Monaco per la presentazione dell'Honor 5X, saluto Pietro che mi sta riprendendo dietro la telecamera e andiamo a vedere velocemente di che cosa si tratta e di che cosa stiamo parlando. Allora stiamo parlando del nuovo telefono di Honor, il 5X, che per 229 Euro presentato negli Stati Uniti a 199 dollari ci offre una scocca in alluminio, la sensazione non è di quello dell'alluminio premium ma diciamo che per la cifra che viene proposto è un ottimo materiale. Fotocamera da 13 megapixel senza stabilizzazione, dual flash e sensore per le impronte digitali molto molto veloce. Display da 5,5 pollici Full HD 1920x1080 con una buona visione dei colori, ovviamente dobbiamo testarlo per verificare come si comporta. Diciamo che gli angoli di visuale sembrano abbastanza buoni e la restituzione dei colori anche non saturi come l'AMOLED. Vediamolo un po' nei particolari, dalla parte destra il rocker del volume e il pulsante di sblocco e stand-by, dall'altra parte vediamo una delle caratteristiche principali di questo Honor 5X che consiste nei due carrellini porta SIM che permettono di utilizzare contemporaneamente una micro SIM, una nano SIM e l'espansione di memoria fino a 128 giga. Il telefono nasce con Qualcomm Snapdragon 616, un octa-core a 1,5 GHz con 2 giga di RAM e 16 giga di ROM. Non arriverà probabilmente in Italia la versione con 3 giga di RAM. Abbiamo detto della fotocamera da 13 megapixel, batteria da 3000 mAh integrata quindi non rimovibile e Android 5.1.1 con Emotion UI 3.1 come interfaccia, tipica di Honor, non esiste drawer delle applicazioni quindi tutto quanto va a finire sulla vostra home page. Leggero, siamo a 152 grammi circa, diciamo anche che le dimensioni, 158 grammi scusate, le dimensioni sono particolarmente contenute e oltretutto se vado a sfruttare una feature che ha appena settato Pietro, vedete facendo uno swipe sulla parte bassa si attiva la possibilità di utilizzarlo con una mano sola. Quindi 158 grammi, 151 mm, 76 e 8,15 mm di spessore. In attesa di provarlo più approfonditamente quando ci verrà consegnato, per adesso io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi nostri video. Ciao!